Un abito su misura di alta qualità rappresenta molto di più che uno stile, è un investimento. Un capo appositamente realizzato per soddisfare il proprio stile di vita e resistere nel tempo. È fuori dubbio che ogni abito dovrebbe essere fatto su misura. E i dettagli più importanti di un abito dovrebbero riflettere stile e personalità di chi lo indossa. In Fertelo i nostri sarti, rigorosamente italiani, seguono i più alti standard per produrre un servizio di sartoria su misura, per soddisfare requisiti di dimensione, colore e stile di ciascun cliente. Taglio e cucito sono poi affidati a mani esperti e capaci perché ogni tessuto ha bisogno di cura e trattamenti diversi. Vengo da tre generazioni di sarti che inizia la sua storia nel 1920, forte della tradizione e delle competenze tramandatemi e con attenzione alle tendenze dei giorni nostri. Il mio obiettivo è di creare capi unici, di qualità ineccepibile e che trovino soddisfazione nel cliente, che indosserà un capo personalizzato corrispondente alla sua personalità. Da sempre il cliente partecipa in maniera attiva alla creazione del capo, esprimendo le proprie preferenze sia in termini di stile che di dettagli. Dalla scelta delle fotere e dei tessuti che sono accuratamente selezionati tra i migliori disponibili e rigorosamente fibre naturali, vegetali o animali, uralana, cashmere, tone e lino. Il risultato finale è un abito interamente concepito su misura per il cliente che lo ha scelto. Un prodotto di qualità ed eleganze ineccepibili per indossare un capo che sia unico ed irrepetibile.